Prendo il rosso, ok? Non credo proprio, il rosso è sempre mio. Calmati, Riff, tanto è solo un gioco per bambini. Nel Regno del Ghiaccio facciamo i tornei. Wow, anch'io voglio fare un torneo. Ma se possiamo chiamare solo un lord dei Gormiti alla volta? Ma non se siamo nella torre. Ma ho chi ha detto di non chiamare. Aoki ha detto di non chiamare un Gormita. Ma noi non ne chiameremo uno. Ne chiameremo quattro. Combatti, Vulcan! Combatti, Zephyr! Combatti, Garak! Combatti, Achilos! Cosa significa questo? Avete evocati nella torre, disobbedendo così agli ordini della custode? Per competere in un torneo. E decidere quale elemento è il più forte? Ehm, sì. Che grandissima idea. Ghiaccio, preparati a scioglierti. O forse sarai tu a congelarti. E vai! Gli incontri saranno... Vento contro ghiaccio e fuoco contro roccia. Bene, possenti sfidanti. C'è solo una regola nel torneo. Il primo a uscire dal suo cerchio perde l'incontro. Illustrissimi guardiani e Gormiti! Sì, in questo angolo abbiamo il ghiaccio! Riff, quello non è un angolo, è un cerchio. E nell'altro angolo ricurvo abbiamo il vento! Per evitare infortuni, un sano riscaldamento. Ecco! Assaggeranno la vera forza del ghiaccio! È basta di ghiaccio! No! Mancato! Una passeggiata! C'eri quasi! Quei tempestiani non fanno altro che giocare. E allora mostriamogli che non gli conviene. Concentrati! Mi allungo, mi stiracchio e faccio stracci! Aaron! Aaron! Ora! Ora! Tempesta di viaggio! E giù per terra! Ma che cosa? Ehi! Ma che avete combinato? Guarda che avete perso! Cosa? Eh? Avete iniziato senza di me! Incredibile! Il vento vince il primo round! Evviva! È stato facile! No! Sì! Grande! E dopo la facilissima vittoria del vento contro il ghiaccio? Che in teoria non vale. Nel prossimo incontro la roccia sfiderà il fuoco! Il pubblico impazzisce! Iniziamo! Niente scherzi e niente imbrogli, ok? Certo! Giocare pulito! È così che... Magma spera! Ehi! Concentrati, Trek! Guardati dai trucchetti degli ardenti! Andiamo in razza! Ora assaggeranno l'energia del fuoco! I due sfidanti sembrano alla pari! Tensione e emozione sospan! Possiamo resistere in eterno ai vostri attacchi! La roccia non si muove! Ha ragione! A meno che... Credi veramente che Caracal inamovibile inciamperà su alcuni dadi? Trek! Roccia, fuori dal torneo! Un punto agli ardenti! E vai! Non è così che lotta un vero gormita! Ti sbagli! Un vero gormita sfrutta ogni opportunità! Decisamente scorretto! Siete degli imbroglioni di prima categoria! Prima volevi le pedine rosse! E io allora te le ho date con tutte le altre! Riconoscete che siamo i più forti? No, siamo più forti noi! Aoki! Ragazzi, pensavo di avervi chiesto... ...di non evocare i gormiti! Oh, ciao Aoki! Com'è andata la meditazione? Stavamo, ehm... ...prendendo molto sul serio la partita? Oh, sì, molto! E' emozionante, sai... Ssshh! Devo concentrarmi! Mmm... Ok, però... Cercate di fare piano! Uh, ci ha mancato poco! Dormiti raggiungibili! Chi mi fermerà? The legend is back! The legend is back! Dormiti! 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 CHERÉ